Premio Meglior Servizio TV Locali e Regionali, quest'anno l'edizione 2012 del premio Ilaria Alpi va a Lucia Portolano che arriva da Telerama con il suo lavoro Mesagne e la SCU, una giornalista che nasce come giornalista della televisione per poi collaborare alla carta stampata, adesso ad internet, è la prima volta che partecipa al premio Ilaria Alpi, immagino una grande soddisfazione neanche a dirlo. Una grande soddisfazione non la immaginavo, l'ho saputo quando sono arrivata qui di essere appunto, non so, tra i finaliste ma la vincitrice quindi la grande passione per il giornalismo nonostante i sacrifici che bisogna fare portano anche le grandi soddisfazioni e questo premio arriva in un momento difficile per giornalisti italiani, si parla di una stampa precaria, di giornalisti precari ma tutto questo vuole essere anche un messaggio affinché si continui perché è un grande segno di democrazia e senza giornalismo non ci può essere democrazia anche per noi delle tv locali e regionali che raccontiamo ogni mattonella della nostra terra e poi anche quello che insomma è stato il mio servizio, Mesagne e la SCU. Ecco andiamo al clou del tuo servizio. Tutto nasce dalle dichiarazioni di un pentito che ha dichiarato ai magistrati che i cittadini di Mesagne solidarizzavano con la SCU e se la SCU era a Mesagne perché i cittadini volevano la SCU, campavano grazie alla SCU e allora un viaggio nel centro di Mesagne dove era stato anche arrestato uno dei boss e il magistrato ha raccontato che quando sono andati ad arrestare il boss la gente lo ha applaudito e ha detto non preoccuparti perché noi curiamo le tue piante e portiamo fuori il tuo cane pensiamo noi a tutto, torna presto qui nella nostra città. Tutto nasce da questo, allora un'inchiesta, una intervista alla gente se fosse vero che loro solidarizzassero con la SCU qualcuno ha voluto parlare, altri hanno preso le distanze e poi un'intervista molto toccante al padre del pentito anche lui uno dei primi boss della SCU Mesagnese lo dice proprio nella nostra intervista ho portato io la SCU a Mesagne perché io ero uno affavellato, uno che aveva i voti, ha avuto i voti dalla camorra e sono arrivato a Mesagne però prende le distanze dal suo figlio pentito e le prende proprio perché il figlio si è pentito perché secondo lui avrebbe dovuto scontare tutti gli anni di carcere. Indubbiamente non voglio abbandonare il giornalismo di inchiesta cercare di capire che cosa c'è al di là di quello che si può vedere e quindi raccontarlo alla gente normalmente mi occupo di politica, di politica amministrativa però nel caso in cui appunto c'è la cronaca e i fatti da raccontare noi ci saremo, io ci sarò.